Ciao ragazze, in primis vorrei ringraziarvi per tutti i bellissimi messaggi che mi scrivete ogni volta sotto i miei video. Grazie veramente di cuore a tutte e se i miei video hanno messo soltanto un'idea per cambiare qualcosa in meglio in voi, per amare voi stessi, per accettarvi come siete, per darvi qualche idea, io sono contentissima perché questo è lo scopo del mio canale, vi ringrazio di cuore che mi seguite. Adesso vi presento un mio vestito che avrà sicuramente 5-6 anni e può darsi che tantissime avete ancora nell'armadio, è un vestito che si potrebbe dire che non va più, però perché no? È un vestito che per una donna over 40 può assolutamente andare benissimo. A me non piace tanto il vestito rosso abbinato con le scarpe nere, non dico che non ci sta, ci sta benissimo, però preferisco il rosso abbinarlo con colori più con il nude, con il bianco ad esempio, non che non ci sta il nero o per qualsiasi altro motivo, è una mia scelta e quindi li abbino con un paio di decolletè color nude. Allora questo tipologia di vestito è adattissimo ragazze che non avete seno, cercate questo tipologia di vestito perché a volte si pensa che se ha un decolletè allora è più adatto alle donne con il seno, invece no, perché questa ricciatura qua fa sì che il seno sembra più grande di quello che è, quindi se avete un seno piccolo con una scollatura del genere sembrerà un po' più grande, invece non è adatto per le donne che hanno la pancia, perché la ricciatura invece qua laterale farebbe sembrare un po' più grande la pancia di quello che veramente è. Per il resto ci può stare perché sotto nasconde molto bene, se avete qualche chiletto in più diciamo messo sulla parte di sotto nasconde molto bene, quindi ragazze senza seno o con seno piccolo cercate o top o magliette o anche i vestiti che hanno questa ricciatura, che si soprappongono così, perché fa veramente un bel effetto. Se vi piace l'idea mettetemi un like. Ciao ragazze!